IAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Signori Siamo A Ma prima di vedere il contenuto Io direi che possiamo chiedere stavolta I like onesti Onesti like quanti? Facciamo di 10-000 onesti like Vabbè, apriamo questa chiavetta Video per gli Enoob Delgietto avrò visto il video Apri video per gli Enoob Ah io ho paura DANGERS TV I NUBE CHANNEL Ma FIFA avete Chiuso per sempre? Chiuso CHIUSO COAQ MA CHE CAZO VAI A SCUOLA Le ultime tappe sono Quindi possiamo dire che Ufficialmente si è conclusa la prima edizione Del noi da voi il quale probabilmente Riprenderà con settembre E molti si chiedevano ma chi è E alcuni che dicevano Ah si Fratello di camper No non è mio fratello Mi amico fine E' stato il nostro mese di maggio Riassunto in 41